Come ti chiami? Isha Il cognome? Ogandar Quanti anni hai? Sette 32 32 Da quanto sei in Italia? Quattro anni Da quanti anni vivi a Lugo? Da quanto tempo? Due anni Allora Che cosa è successo? Sono 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 Sare alla scala In Dando che giorno era? Il 25 settembre All'11 e mezza Che zona di Lugo? Su al centro storico? Via Graus Via Graus Via Graus Via Graus Via Graus Comunque su al centro storico? Sì, Via Gran Sasso Ah, Gran Sasso Che cosa è successo? Racconta l'episodio Dove ho detto che voleva salire alla casa Ha detto che ferma solo la polizia Era uno solo All'inizio All'inizio Gli ha fatto vedere il tesserino? Sì All'inizio Gli ha fatto vedere il tesserino? Sì Poi ho cercato Gli ha detto Quella cosa avevo Avevo 170 euro Un pacchetto di sigarette Poi 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 Ha detto Io parlo con lui Subito Quando vuole girare Gira ha sentito quegli amori Allora Allora Un attimo Non si è capito bene questo Quando gli ha fatto vedere il tesserino Poi cosa gli ha detto? L'ha fatto girare? Ha detto Dammi Vuole cercare la tasca Che cosa c'è? Lui ha detto C'erano solo 170 euro Il pacchetto di sigarette Lui ha preso 170 euro 170 euro Il pacchetto di sigarette Lui quando ha girato Ci sono tutti i muri Ah, quindi Quando gli ha chiesto i soldi Stavano girato verso il muro Sì Poi Lui quando ha girato Ha sentito i muri Delle ragazze Tante ragazze Allora Quando ha girato Ha spaccato le facce Al muro Così Tre persone Ha fatto Come si chiamava Il passamontagna Si Poi Poi L'altro Il sindaco Ha preso dalla tasca Poi Ha metto Figlio del sindaco E' il poliziotto Si Poi l'ultimo Ha fatto riposo Chiusi anche la faccia Lui Per nessun insomma Ah Pure lui Pure lui Ha fatto Si E Quanti erano? Per il poliziotto Per il poliziotto Per il poliziotto Ho scattato la terra Poi è arrivato Le amici di più Mi ha portato Ma ci sarebbero Sì No Intanto Dico E' allomenato solo con le mani O c'avevano qualcosa Cosa Cosa Il Doctore Ha detto Una cosa Di ferro Non lo so Il doctore Ha detto Si Quindi Allora Voi sono arrivati i tuoi amici E siete andati in ospedale Da quello che ho capito Si A che ora A che ora Siete arrivati più o meno in ospedale? Ma è successo Si Ha detto A luna A luna Il medico Unitanto non c'era un poliziotto In ospedale Perché C'erano solo i medici Qui L'hanno medicato Si Poi è andato via Non voglio rimanere a ospedale Non è arrivato il polizio Non vanno verso niente i medici? Certo Il doctore Che cosa era successo? Non c'era un medico Il doctore ha detto Non ha cercato le cose Solo Sono fatto I medici Sindaco Non avete fatto denuncia? No Dì perché Perché non l'avete fatta? Perché Non l'avete fatta Per Per esempio Il sindaco Il sindaco Mi ha detto Il figlio del sindaco Io mi dico È il figlio del sindaco Poi Per loro Ho detto Marocchini Che rapoli sia Non devi fare così Loro Anche loro Non grida Poi quando ha fatto Ha fatto Allora tutti Grigano così Ho capito Quanti altri episodi Ci sanno Secondo voi Di questo genere? Se avete sentito altri casi? Di quelle Cos'è Di 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 Marocchini Che sono stati aggrediti Però Sono due 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 Sono scappati Un Non capito Non lo so C'è qualcosa In più Che ti ricordi Loro Loro Ha detto Quanto ha preso il soldo Ha cercato le tasche Ha trovato solo quelli E' subito Andato via E Lui è rimaniato Per terra Alla terra E Non gli hanno detto niente? Cioè Di parole? E Come per l'ultima? No Non trasmette Loro Loro Ha detto Loro tre Non parlate Solo lui Quindi ha detto solo Sono un poliziotto E basta Si